Il primo segno della misericordia si compie a Cana di Galilea, una sorta di portale d'ingresso in cui sono scolpite parole ed espressioni che illuminano l'intero mistero di Cristo e aprono il cuore dei discepoli alla fede. Così Papa Francesco, rivolgendosi ai fedeli giunti in piazza a San Pietro per l'udienza generale, commentando l'episodio evangelico, il Pontefice ha chiarito che tutti siamo invitati a quelle nozze in cui il vino nuovo, segno eloquente della gioia della festa, non viene più a mancare. Salutando con affetto un gruppo di coppie che celebrano il cinquantesimo di matrimonio, Papa Bergoglio ha infine chiesto di seguire l'indicazione della Vergine, qualsiasi cosa vi dica fatela, un programma di vita per tutti i cristiani. Le nozze di Cana sono molto più che il semplice racconto del primo miracolo di Gesù. Come uno scrigno, egli custodisce il secreto della sua persona e lo scopo della sua venuta. La teso sposo dà avvio alle nozze che si compiono nel mistero pasquale. In queste nozze lega a sé i suoi discepoli con una allianza nuova e definitiva. A Cana i discepoli di Gesù diventano la sua famiglia e a Cana nasce la fede della Chiesa. Grazie.